il corso è stato molto formativo dal punto di vista anche grazie ai formatori che sono molti preparati ci hanno dato ci hanno istruito abbastanza ci sono stati vicino e ci hanno insegnato tante 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 tecniche in particolare ho visto la presenza di fabio che è un ottimo oratore soprattutto anche da carisma e da voglia di lavorare dal punto di vista un formatore anche top è stato il grande boscolo Simone che ci ha dato tante tante istruzioni su come effettuare tagli ed esecuzioni i formatori sono stati vicino a me come tutti gli altri e ci hanno dato ecco la possibilità di crescere insieme a loro durante questo corso e consiglio perché la formazione ci fa crescere insieme e condividere tante belle cose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti